Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come La nota showgirl argentina ha confessato su Instagram il difficile momento passato e la sparizione sui social negli ultimi giorni. Che cosa è successo? Belen Rodriguez è una delle showgirl più famose degli ultimi anni. Il suo volto è apparso con costanza in televisione negli ultimi 15 anni. Su Instagram è seguitissima e conta oltre 10 milioni e mezzo di followers. Ma di quale confessione si è resa protagonista Belen Rodriguez nelle ultime ore? Che cosa ha detto in alcune sue Instagram stories? Belen torna sui social dopo un periodo di assenza, Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984. Una volta arrivata in Italia nei primi anni del 2000, la bella Belen si è fatta conoscere prima come modella e poi come conduttrice televisiva e attrice. Nel corso degli anni ha condotto diversi programmi di successo, come Italia's Got Talent, Scherzi a parte e Tussi Kevales. Nella passata stagione ha condotto lo storico programma Mediaset delle Iene in coppia con Teo Mammucari. Nella prossima stagione Belen Rodriguez sarà impegnata nella conduzione della nuova edizione del talent show televisivo Tussi Kevales. Nei mesi scorsi la showgirl è tornata insieme allo storico compagno Stefano De Martino. Ma che cosa ha avuto Belen Rodriguez? Per quale motivo è sparita per diversi giorni dai social? Ecco la sua confessione a riguardo. La confessione, Belen Rodriguez ha confessato di essere sparita da tutti i social per qualche giorno a causa del covid che l'ha colpita. Ora Belen sta bene ed è tornata nuovamente al lavoro. Ecco le sue parole nel corso di alcune Instagram stories pubblicate nelle scorse ore, ho avuto il covid, per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. Sono sana e salva, ma è stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto. La compagna di Stefano De Martino è stata assente dai social per oltre una settimana. Diversi followers erano preoccupati per questa cosa, dal momento che la bella showgirl è attiva sempre quotidianamente su Instagram, dove condivide qualsiasi cosa della sua giornata lavorativa e della vita privata. Belen ha lanciato anche una dura frecciatina contro tutti i giornali di gossip che hanno parlato di una sparizione dai social dovuta a una nuova presunta crisi con Stefano De Martino o alla possibile partecipazione come concorrente di Antonino Spinalvese alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. In un'altra Instagram stories, infatti, Belen ha detto, non sono vere tutte le cavolate che hanno scritto, però vabbè chi se ne frega. Ora sono contenta, cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.